Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema Harry Potter ma prima di cominciare vi ricordo che in infobox trovate il link alla mia vetrina Amazon con una selezione di prodotti potteriani e non da poter acquistare naturalmente acquistando tramite quei link sostenete il canale quindi vi ringrazio in anticipo e trovate anche il link per acquistare su Pampling utilizzando il mio codice sconto PAMPLING7POTTER avrete con qualsiasi acquisto sempre un paio di calzini super nerd in omaggio e il codice sconto oltre a essere riutilizzabile all'infinito è anche accumulabile con tutte le offerte di Pampling io oggi indosso proprio una maglietta di Pampling e vi ho già mostrato anche il nuovo zaino su Instagram e ce ne sono davvero tantissimi e ne aggiungono sempre di nuovi ma detto questo vanno alle ciance e cominciamo a parlare di Harry Potter ragazzi io tanti anni fa la prima volta che andai al Warner Bros Studio Tour parliamo ormai del 2012 quindi ben nove anni fa beh acquistai una cosa acquistai una cioccolana che è esattamente questa qui questa è proprio quella che acquistai quell'anno infatti la scadenza dietro è luglio 2013 la cioccolana naturalmente è bella che è andata l'ho mangiata subito e all'interno trovai una figurina la famosa figurina delle cioccolane che è questa qui è la figurina di Albus Silente è un cartoncino olografico sul retro come nel film troviamo una breve descrizione una piccola biografia del personaggio riportato sulla figurina e fui penso abbastanza fortunato perché naturalmente Silente era quello che volevo trovare e oltre Silente si poteva trovare anche uno dei quattro fondatori di Hogwarts acquistai questa cioccolana l'ho aggiunta alla mia collezione e non ci ho mai più pensato più di tanto fin quando l'altro giorno sono l'altro giorno quasi un mese fa sono andato su Vinted il famigerato Vinted e ho visto che molte persone vendono le figurine delle cioccolane e ragazzi mi sono documentato ce ne sono diverse e ne ho recuperato un bel po' proprio su Vinted ho acquistato un lotto intero di otto figurine per circa 25 euro quindi direi un buon prezzo visto che una cioccolana costa 10 euro o 10 sterline quindi anche qualcosa in più e mi sono documentato anche su quelle che non ho ancora trovato che sono quattro quindi ho dato il via così da un momento all'altro a questa nuova collezione e ho cominciato a recuperare anche queste card perché devo dire che hanno comunque il loro fascino e nei film e nei libri se ne parla di continuo quindi all'interno di questa scatolina ora non c'è più solamente la figurina di Silente ma c'è un bel mazzetto di card eccole qui sono un bel po' e adesso le andiamo a guardare assieme la prima che troviamo è questa qui che naturalmente adesso man mano vi mostrerò anche più da vicino e si tratta di Hengist of Wuderoft credo non lo so non credo che si dica così ma crediamoci facciamo finta di sì dietro abbiamo la sua vita e chi è costui chi è questo personaggio era un mago un mago che è scappato da casa sua a seguito delle persecuzioni da parte dei babbani è scappato in Scozia dove ha fondato il villaggio di Hogsmeade e in questo villaggio oggi troviamo il famoso pub Tremanici di Scopa e troviamo scritto qui nella sua biografia che molto probabilmente quella è la casa dove viveva questo personaggio quindi molto carina la cosa che danno comunque un contesto danno una spiegazione di chi troviamo su questa figurina anche perché non è un personaggio noto perlomeno io non ricordo di averlo sentito mai nominare nei libri o nei film a maggior ragione però mi ha fatto molto piacere scoprire questa piccola chicca e avere anche la sua figurina la prossima è quella invece di Ollivander Ollivander non credo abbia bisogno di molte presentazioni naturalmente è il fabbricante di bacchette più famoso del Regno Unito lo conosciamo bene, l'abbiamo visto nei film quindi direi che non è necessario spendere tanto tempo su questa figurina la prossima è quella di Salazar Serpeverde che sinceramente immaginavo con una faccia un po' diversa però abbiamo visto che ha questa faccia è calvo, ha la barba lunga col pizzetto e devo dire che è curiosa questa cosa che non ci hanno mai effettivamente mostrato i fondatori se non Corvo Nero Priscilla, Rowena o chiamatela come vi pare ce l'hanno mostrata in uno dei film del Harry Potter negli ultimi film ma invece gli altri fondatori credo non li abbiano mai mostrati però evidentemente è stato fatto un casting visto che da oggi è ufficialmente questo è un prodotto ufficiale Warner Bros quindi io deduco che questo signore sia stato preso appositamente per interpretare questo ruolo magari potremmo vederlo anche in futuro in un film, in dei flashback, in Animali Fantastici boh, chi lo sa magari mi faccio troppi film mentali poi abbiamo anche quella di Gilderoy Hallock o Lockhart nella nuova traduzione credo abbiano lasciato questo nome anche qui non ci sono molte presentazioni da fare perché lo conosciamo benissimo l'abbiamo conosciuto in Harry Potter e la Camera dei Segreti e naturalmente il volto che troviamo qui sulla figurina è quella dello stesso attore che lo interpreta anche nel film questa cosa infatti mi ha spinto a comprarle perché sono comunque legate ai film e mi piacciono molto altra figurina di persona abbastanza sconosciuta è questa di Devlin Whitehorn eccolo qui con la sua scopa tra le mani chi è costui? costui sembrerebbe essere il fondatore della Nimbus dell'azienda che si occupa della costruzione di manici da scopa e che ha rivoluzionato il mondo delle corse su scopa e del Quidditch quindi è colui che ha inventato la linea di scopa Nimbus poi abbiamo anche col suo nome originale Rowena Corvo Nero eccola qui anche lei è la fondatrice una dei fondatori delle case di Hogwarts appunto quella di Corvo Nero dietro troviamo una sua breve descrizione come al solito ed ecco questa è l'attrice che la interpreta poi abbiamo anche Yokunda Sikes non lo so Yokunda invece ha una biografia di sole tre righette striminzite ma nonostante ciò ci viene detto che è stata la prima strega ad attraversare l'Atlantico a cavallo di un manico di scopa quindi tanto rispetto per Yokunda poi abbiamo anche la figurina di Helga Helga Tasso Rosso o Tasso Frasso Helga o Cosetta se non ricordo male le prime traduzioni qualcuno prima o poi deciderà qual è il suo nome e mi piace tantissimo l'attrice che la interpreta mi fa tanta simpatia mi trasmette tanta allegria ed è proprio come in immagino la fondatrice di Tasso Rosso come una zia molto affettuosa una zia protettiva e affettuosa non lo so mi dà questa sensazione e mi piace moltissimo poi abbiamo anche la figurina di Godric Grifondoro che è un po' un misto tra Hagrid e Robert Baratheon del Trono di Spade lo immaginavo un po' diverso però ok ci sta e non lo so non mi convince tantissimo l'attore è scelto ma va bene così lo prendiamo per buono ha qualcosa di strano forse un po' troppo medievale non lo so però tant'è hanno scelto lui e poi abbiamo un'altra figurina che è leggermente più piccola delle altre non so per quale motivo non hanno tenuto questo standard di dimensione però questa qui proviene invece tutte quelle che vi ho mostrato provengono dalle cioccorane di Londra quindi quelle vendute al Warner Bros Studio Tour questa qui invece proviene dal Wizarding World di Orlando quindi dalle cioccorane in vendita negli Stati Uniti e abbiamo la figurina di Bertie Bott Bertie Bott naturalmente è il nome originale delle gelatine tutti i gusti più uno e Bertie Bott è l'inventore delle gelatine tutti i gusti più uno ha proprio la faccia da operaio di Willy Wonka ha proprio la faccia di venditore di caramelle ha anche questo gilet con le gelatine che vanno a sostituire i bottoni del gilet quindi molto molto simpatico e questa è l'ultima figurina che sono riuscito a recuperare adesso me ne mancano ancora circa quattro una con il professor Silente però con Richard Harris quindi il primo attore che lo interpretava mi manca quella con sempre di Silente ma con al centro lo spazio nero quindi quando Silente va via dalla figurina quindi senza l'immagine di Richard Harris mi manca quella di Mago Merlino quella di Morgana se non ricordo male e altre due di persone abbastanza sconosciute che non ricordo perché ho visto solamente l'immagine frontale una donna, un'infermiera, una cosa del genere comunque non ricordo i nomi ho fatto degli screen sul computer quindi prima o poi le troverò e ve le mostrerò e mi mancano queste quattro o cinque figurine per completare la collezione di tutte quelle che sono state pubblicate ad oggi è stato abbastanza semplice recuperare tutte queste qui la spesa non è stata neanche così eccessiva avrò speso una trentina di euro 35 euro in tutto tra il set e le due che ho acquistato a parte e quindi le ho recuperate molto facilmente su Vinted probabilmente le altre che non ho trovato sono vendute negli Stati Uniti quindi come questa qui di Bertibot quindi probabilmente ne girano meno qui in Europa visto che i venditori sono tutti o spagnoli o inglesi o comunque olandesi e giù di lì quindi non lo so sarà un po' più difficile recuperare quelle ma ci proveremo ovviamente qualora foste interessati trovate anche il link per registrarvi su Vinted trovate tutto sotto in infobox detto questo ragazzi per oggi è tutto spero vi sia piaciuta la mia nuova collezione fatemi sapere se voi avete a casa delle figurine che provengono dalle cioccorane dello studio tour o addirittura dagli Stati Uniti magari avete anche una di quelle che mi mancano nel caso fatemi sapere e detto questo ragazzi vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità chiudo il becco e vi saluto ciao